Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi è con veramente totale ed estrema felicità, che poi ovviamente vi spiegherò anche il perché è doveroso, che vi presento Star Wars Legion, gioco di battaglie su larga scala, ma non soltanto, anche skirmish game, quindi gioco di battaglie di schermaglie, ambientato nell'universo di guerre stellari di Star Wars, una saga che sapete, io adoro la follia fin da piccolino, fin dagli anni 90, perché, chi mi conosce lo sa anche in ambito videogiochi, il mio nickname appunto Coridan Jade, Jade sarebbe il cognome, comunque il mio nickname Coridan, viene da un personaggio che all'età di 15 anni ho creato per il gioco da tavolo, per il gioco di ruolo di 6 system di Star Wars, quindi il mio stesso nickname viene da quello e io adoro veramente alla follia tutto quello che riguarda guerre stellari e in questo periodo che la Disney, che ringrazio di cuore, perché ha salvato e ha sviluppato ed ha ampliato una saga che già adoravo, stanno uscendo tante nuove serie tipo Mandalorian, la seconda stagione, The Book of Boba Fett, la bellissima Obi-Wan Kenobi che è uscita da poco e molte altre, The Bad Batch e tutte quelle altre che verranno, non potevo non citare un gioco del genere perché è veramente di uno spettacolo assurdo e secondo me nel suo decisamente anche unico. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Star Wars Legion, gioco della Fantasy Flight Games, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare come sempre, ah nel frattempo vedete dietro finalmente anche noi abbiamo un Kallax, siamo riusciti a farlo piano piano, stiamo evolvendo anche lo studio e tutto quanto, e poi è molto più ordinato, pulito e preciso, e mi dà anche un senso più di professionalità che mi piace particolarmente. Questo è un gioco di battaglie su larga scala e di schermaglie. C'è il regolamento che vedete qui davanti per giocarlo tranquillamente a mod di Warhammer 40.000, quindi con veri e propri eserciti, o se no anche a mod di schermaglia. Infatti quello che vedete qua davanti a me, le miniature che vedete qua, sono la scatola base del gioco, che vi danno le truppe imperiali con gli assaltatori imperiali e uno degli speeder bike, vedete, con degli scout, e Darth Vader. Da questa parte i ribelli, vedete, con della fanteria ribelle e degli scout, e un giovane Luke Skywalker di episodio 2, come vedete qui davanti, di episodio 2. Lo chiamo episodio 2 che poi sarebbe il 5, vabbè, comunque l'impero colpisce ancora. L'episodio 2 della vecchia trilogia. E tutto quanto il materiale che vedete qui davanti, invece, vi faccio soltanto vedere le scatoline, perché sul campo non è rappresentato. E ci sono, ovviamente, altre due scatole per fanteria e truppe, comunque, veterane apripista della ribellione, perché siamo in periodo ribellione. Da quest'altra parte vedete gli scout e gli assaltatori imperiali, perché la cosa bella di Star Wars Legion è che c'è la scatola base della guerra, della ribellione, della battaglia ribellione contro impero, ma c'è anche quello della Vecchia Repubblica. Quindi potete giocare anche con i separatisti da una parte e i cloni dall'altra, ed è una figata disumana. E si ritrovano anche vari personaggi che hanno fatti, sono diventati famosi con la saga, o che stanno anche acquistando valore, tipo Ahsoka, per farvene uno, con, appunto, Star Wars Rebels, Clone Wars, e ora anche con la sua serie, che verrà dopo The Mandalorian, seconda stagione. Questo è un gioco di battaglie e di schermaglie. Il regolamento è decisamente fresco e veloce. Non vi dico da una lettura, ma veramente da una lettura e mezzo al massimo, e c'è anche una battaglia di base, uno sconto di base, che vi fa vedere, vi fa imparare a giocare, mentre praticamente fate un turno dopo l'altro. In questo gioco si va a fare semplicemente la misurazione, che le varie misurazioni, ora poi come vedete al video, sono fatte da, hanno messo dei misuratori all'interno, che sono bellini e sono, tra l'altro, snodabili e pieghevoli, così da vedere, da fare una misurazione molto più professionale di quella che era l'unità imperiale di Warhammer, se vogliamo un tempo, perché a Warhammer dovevi puntare in una direzione, poi quando l'omino arrivava lì, lo mettevi lì, e poi magari lo facevi piegare e lo rispostavi. Questa volta non ce n'è bisogno, perché c'hai direttamente il misuratore che si va a piegare, è snodabile, ci sono delle braccia che si piegano, e quindi se fai muovere la pedina da un punto ad un altro, e poi dal punto successivo, non c'è nemmeno bisogno di alzare dal tavolo il misuratore. Stessa cosa per i veicoli, che invece il misuratore deve sempre essere incastonato sulla punta che c'è alla base della miniatura, o meglio, sulla piccola rientranza, perché un veicolo, giustamente, non può, se va avanti, girare a 180 gradi e tornare indietro. Sarebbe inverosimile, quindi un veicolo deve sempre seguire una giusta curva, anche, soprattutto, di aerodinamica e di fisica, che possa tornare un minimo, mentre invece le truppe, invece, si possono muovere avanti e indietro come vogliono. Il regolamento è semplice, ricorda anche abbastanza, non a caso, se è per quello della Fantasy Flight, e l'hanno utilizzato quello dello Splendido, che ho qui dietro da qualche parte, Assalto Imperiale, eccolo qua su un cima, che è veramente uno spett... Per me, questi sono dei giochi cooperativi più belli mai creati, e il regolamento è bene o male lo stesso. Si va a prendere la scheda dell'unità, si guarda l'unità che tipo di dado tira, copia e colla da quell'altro, meno male, si va a vedere che tipo di dado tira, e quanti ne tira. Che ne so, gli Assaltatori Imperiali tirano un dado d'attacco, la squadra è fatta da 5, da 6, più il comandante, perché in ogni unità c'è sempre un comandante, che nel caso degli Assaltatori sono quelli con la spallerina, e si va a fare la misurazione per la distanza dove tirano, che ne so, da 1, 3, 4, 5, c'è scritto sulla loro carta. Si va a misurare dal comandante dell'unità all'unità più vicina dell'unità nemica, se ci si arriva si tirano dadi, magari si tirano 5 dadi, e di questi 5 dadi potrebbero uscire dei risultati colpito, dei risultati colpito critico, e vediamo appunto, da seconda del colore anche del dado, che è differente uno dall'altro, si va a vedere tutta la soglia dei colpiti che abbiamo fatto. Il nemico, se è in copertura leggera, toglie un dado dall'attacco, quindi c'ha una difesa automatica. Se è in copertura pesante, c'è una 2, nel caso ci abbia armature, potrebbe averci un altro bonus, perché poi ci sono anche delle carte migliorie e cose del genere, e soprattutto le unità di solito hanno un punto ferita. Se non c'hanno token di schivata, che la schivata ti leva direttamente un altro attacco, si fa il calcolo, numero di attacchi, numero di difese, si vanno a sottrarre le difese dall'attacchio, quelle che rimangono sono ferite. Se rimangono due segnalini ferita, due truppe vengono uccise. Buona regola di Warhammer, insegna che il leader si rimuove sempre per ultimo dall'unità, perché un'unità non può restare senza leader, non avrebbe comando. E quindi, a parte il comandante dell'armata, che è sempre il personaggio principale che sceglierete, perché questo è un leader della truppa. Darth Vader, ovviamente, è il leader di tutto quanto lo schieramento imperiale. Si va a vedere, si va a fare la conta appunto delle ferite che sono entrate, si vanno a togliere le truppe. Di solito, ma non sempre, perché truppe elite a volte hanno due punti ferita, le truppe normali hanno una ferita, mentre invece come personaggi, come Luke, c'è una 6, Darth Vader, c'ha 8 ferite, e regole speciali. Ad esempio, un Jedi e un Sith possono usare la forza, oppure Darth Vader, quando va a deflettere, a parare colpi, ha la possibilità di rimandarli indietro, e quindi di fare una ferita diretta all'unità da cui è stato bersagliato. Ci sono un po' di regole, ma ovviamente, ragazzi, il gioco è molto semplice, il regolamento è veramente molto chiaro, io va sicuro, è un gioco velocissimo, e non ci sono assolutamente fraintendimenti. In conclusione, Star Wars Legion è un gioco di miniature e di battaglie, questo non è un gioco cooperativo, è questo un gioco competitivo, per i fan soprattutto, perché troveranno la versione Impero contro i ribelli, e se no potranno giocarlo anche direttamente nelle guerre dei cloni, contro i separatisti, e is it, che sarà una cosa veramente spettacolare, ma anche, secondo me, per fan di giochi di schermaglie, e di battaglie, sia skirmish che su larga scala, che magari hanno visto Star Wars, sono appassionati, ma non lo, magari non sono magari mega fan come me, ma vogliono provare un gioco veloce, alternativo, e veramente spettacolare, per poi non contare che le miniature, quando vi arrivano, sono già staccate dall'isprù, sì, le dovete montare, incollare, però sono staccate, non ci avete da staccarle dall'isprù, vi arrivano dentro una bustina, tutte quante separate, quindi anche, veramente molto comodo. Io ringrazio la gioco libreria Simola, come sempre, primo link in descrizione, in sovrimpressione, per averci offerto tutto quanto questo materiale, e, se lo volete ordinare, mi raccomando, sempre dal nostro sito sponsor, che come ho detto, trovate in tutti i video, sia in descrizione, che in sovrimpressione, al miglior prezzo sul mercato. Ora a breve vi dico una cosa spettacolare, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma usate sempre il codice discount, Corridan 7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiore ai 79 euro, corriere gratuito, in 48 ore, ordinate, in due giorni varie va a casa, non soltanto in Italia, ma comprese le isole, e anche fuori dall'Italia, all'estero, quindi anche in Europa, se ordinate da un'altra nazione, in 48 ore va a casa. In più, non tutti, ma la maggior parte della roba di Legion, al momento sul sito del nostro negozio sponsor, il gioco libreria Simola, è scontata del 50%, quindi anche la scatola base è scontata, queste sono scontate, prendete tutta questa roba che vedete, a metà prezzo, e mi raccomando, se un prodotto non lo trovate in lista, oppure c'è in lista, ma c'è scritto esaurito, mandate una mail al supporto, contattate il supporto sul sito, Corrado, il proprietario dello gioco libreria Simola, e fateli presente che arrivate dal canale di Corridan, lui farà il possibile per trovarvi prodotti finiti, o anche fuori catalogo, farà il possibile per trovarveli, e anche lì, usate sempre lo sconto Corridan 7, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, e abbonatevi a Disney+, perché veramente ci sono delle serie di Star Wars, che a me da fan mi stanno facendo impazzire, e lo dico spudoratamente, visto le tante lamentele che ho sentito ultimamente, Disney, grazie per quello che stai facendo, perché stai rendendo l'Expanded Universe, che era andato dimenticato dalla stessa Lucas, secondo me lo stai rendendo uno spettacolo, e grazie, vai avanti così, e continua a sfornare 10.000 serie, di Star Wars, che non ci annoieranno mai, anzi, stanno forse salvando, la nuova trilogia, episodio 7, 8 e 9, che hanno fatto un po' schifio, ciao ragazzi, alla prossima!